cari amici ringrazio ancora la lettrice federica che mi ha segnalato due frasette nel recente comunicato di carlo maria viganò non lo chiamo monsignore perché lui non è più un arcivescovo cattolico in quanto si è fatto riconsacrare da williamson cosa da lui mai smentita nel suo ultimo comunicato lui fa delle affermazioni un tantinello sopra le righe leggiamo insieme non è un caso che a patrocinare questa rivoltante kermess vi sia un emissario del world economic forum emmanuel macron che spaccia impunemente come propria moglie un travestito esattamente come barack obama si accompagna un nerboruto in parrucca ripeto emmanuel macron che spaccia impunemente come propria moglie un travestito esattamente come barack obama si accompagna un nerboruto in parrucca capite L'ex enunzio apostolico negli Stati Uniti, il fine diplomatico Carlo Mario Viganò, oggi afferma, senza lo straccio di una prova, senza lo straccio di un documento, che le mogli dei presidenti Obama e Macron in realtà sono due uomini, due travestiti. Ora, se questo scenario fosse verificato, ve lo dico, mi stupirebbe tanto quanto se qualcuno mi dicesse, sai, domani è previsto tempo variabile. Ah sì? Capito. Diciamo, il mio stupore sarebbe identico. Perché? Perché la realtà supera la fantasia di almeno 50 o 100 volte e perché per gli ignostici, appunto, c'è il mito dell'androgeno, l'unione degli opposti, tutta una serie di istanze omosessualiste che per loro hanno un profondissimo significato spirituale, eccetera. Quindi la cosa in sé non mi stupirebbe affatto. Il problemino qual è? Il problemino da niente è che certe affermazioni bisogna provarle con una documentazione o quantomeno si può sollevare un dubbio sulla base di qualcosa che non torna. Che ne so, se Viganò avesse prodotto delle fotografie in costume delle signore Obama e Macron e avesse cepito su qualche dettaglio, dice ma com'è che è così, com'è che sembra colà, eccetera, non sarà che... Allora uno solleva un dubbio. Ecco, imparate dall'uomo dei condizionali, Cesare Sacchetti, che almeno ha il buon gusto di mettere i condizionali. Le spara grosse, grossissime, però almeno mette sempre il condizionale. No, invece... Invece Viganò fa delle affermazioni apodittiche. Macron spaccia impunemente come propria moglie un travestito, così Obama si accompagna a un erboruto in parrucca. Ips e Dixit, parola del signore. Le prove? Va, quelle le lasciamo a voi, cercatele da soli. Ora, i casi sono due. O, diciamo, l'età comincia a farsi sentire in modo pesante, in modo pesantissimo, oppure c'è dietro una precisa strategia. Io propendo più per la seconda ipotesi. Perché? Perché Viganò sono due anni che sta abbandonando, come abbiamo visto nel podcast precedente, sta abbandonando tutte le frecce più efficaci per rimuovere Bergoglio, cioè l'errore sostanziale e la sede impedita, che lui, anzi, combatte attivamente, per trovare sempre nuove soluzioni fantasiose e inutili e dannose, per commettere errori sempre più gravi. Tipo, quando ha disconosciuto Bergoglio come fa, ma non l'ha fatto sulla base dell'errore sostanziale di Ratzinger, come pure insiste il povero professor Radelli, gli dice ma scusi, lei ha considerato magistrale il mio lavoro sull'errore sostanziale, adesso perché divaga, si fissa su altre cose, il vizio di consenso, eccetera. No, giusto, Radelli fa delle obiezioni giuste. No, ha disconosciuto Bergoglio perché appartiene alla setta conciliare e quindi in questo modo ha servito sul piatto d'argento a Bergoglio la possibilità di scomunicarlo in modo assolutamente corretto. Se fosse il Papa, Bergoglio lo avrebbe scomunicato senza nessun problema. Tra l'altro Viganò è anche scomunicato a late sentenze, perché non riconoscendo l'autorità di Giovanni Paolo II è entrato nel sedevagantismo più assoluto, si è fatto riconsagrare vescovo, eccetera. Vedete, degli errori talmente madornali, talmente suicidi che sembrano proprio costruiti apposta. Adesso con queste ultime fanfaronate destituite di qualsiasi fondamento lui si è proprio autoghettizzato nel mondo QAnon. Sapete qual è il mondo QAnon? Sono dei super complottisti che di solito sostengono Trump. È un'area abbastanza umbratile, per così dire. Tant'è che qualcuno sospetta che QAnon sia stato messo in piedi proprio dai globalisti, per screditare tutti i trampiani. Perché che cosa sostengono questi QAnon? Sostengono che sotto la Casa Bianca è pieno di tunnel con dei bambini imprigionati, torturati, violentati, eccetera. Ora, tutto è possibile. Io non è che scarto queste ipotesi, però c'è il dettaglio, il piccolo dettaglio che queste cose vanno provate. Allora, se tu le spari così grosse, senza avere uno straccio di una prova, stai facendo un favore al tuo nemico. È come se io avessi presentato un'istanza al tribunale dicendo che Bergoglio non è il Papa perché non è un essere umano, un alieno, è un rettiliano. Avrei fatto il miglior favore del mondo a Bergoglio perché il tribunale potrebbe cassare tranquillamente questa istanza dicendo che voi vi dovete far curare e avrebbe ragione e quindi passerebbe in cavalleria tutta la questione della sede impedita, eccetera. Viganò sta facendo un enorme danno alla causa e sta sabotando con la sua o sincera condotta suicida oppure calcolata attenta strategia di complicità con Bergoglio sta comunque sabotando tutta la causa dell'illicità, dell'illegittimità di Bergoglio. Perché? Adesso tutti potranno dire sì, vabbè, Viganò sostiene che Bergoglio non è il Papa perché non riconosce nemmeno Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, Paolo VI adesso sostiene perfino che le mogli di Macron e di Obama sono degli uomini quindi figuratevi è uno da rinchiudere. Tutti diranno così e quindi verrà cassata anche nel malloppo nel gruppo nell'insieme delle castronerie insieme a a tutte queste cose ipercomplottiste verrà cassata anche la legittima e documentata questione della sede impedita di Benedetto XVI e infatti Viganò che cosa fa? Non è che lascia fare tranquillamente a Cionci non è che gli dà pure un soldo di credito dai Cionci almeno provaci tu con sta storia della sede impedita io non ci credo ma almeno tu provaci no, la combatte! La combatte come se Cionci gli stessi a fare un dispetto a sollevare la questione della sede impedita Allora io mi rivolgo a tutti i Viganiani voi vi rendete conto del danno che vi sta producendo questo personaggio? Vi sta screditando in modo totale e sta screditando anche quelle istanze che più vi stanno a cuore cioè il fatto che col concilio la massoneria ecclesiastica sfonda la porta cosa che io ho sempre appoggiato cosa diversa da ritenere i papi conciliari i complici di questo sabotaggio io ho fatto delle ipotesi ardite vedete? adesso sto parlando in questo periodo di una possibilità di un exit strategy per Bergoglio simulando la propria morte ma io che cosa faccio? io da un lato porto i dati di fatto oggettivi i cambiamenti nelle regole per l'eseguo e pontifice il film che un anno prima sapeva già di questi cambiamenti il velo la possibilità di creare maschere di cera manichini sono tutti fatti reali documentati su questi fatti reali documentati io poi dico adesso signori entriamo nella scrittura creativa immaginiamo la sceneggiatura di un film e ho organizzato una storiella volutamente di fantasia separando ciò che è realtà oggettiva da quella che è una pura speculazione questa pura speculazione serve a svegliare ad alzare le antenne perché ormai viviamo in un mondo dove tutto è possibile per quanto mi riguarda è possibile anche quello che dice Monsignor Viganò il dettaglio è questa cosetta dimenticata che prima di fare affermazioni così gravi è necessario provarle quindi io credo che ci troviamo in presenza dell'ennesimo autosabotaggio consapevole di Viganò per screditare tutta la questione dell'illegittimità di Bergoglio che vi devo dire parafrasando Maurizio Costanzo buona camicia di forza a tutti per voi che siete rimasti normali con delle facoltà normali di ragionamento ci vediamo a Pescara l'11 agosto alle ore 16 al locale Friends prenotatevi ingresso offerta libera naturalmente chi vuole può anche trattenersi per l'aperitivo cenato se non l'avete fatto per favore iscrivetevi a questo canale perché ho bisogno di numeri grazie a tutti coloro che hanno voluto anche sostenerci un caro saluto a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti